Mandi Fruz S'aveso qui coai sul mio grim? Jè si clame pine e jere la me pipine preferide quanto jeri piccinine O gioiavi tanto un jè e le portavi a torda pardute e i fevelavi tutto il dì Mi pareva anche che mi sommeasco anche i grandi voi neris anche i miei Mi piaceva menare a torpe chiese gli cambiavi i vestiti e poi mi piaceva tanto giocare con pine e le smesse a me che avevano anche loro dei pipini biello nonis e ieri annunte cui chiave i ros e dopo margarite cui voi ce l'eschi Ieri va della giornata Pasarino un'eritate con bravura e io tal dìs la mia tua parinti amici tutti insieme in tecchiazutte Ascoltarino un'eritate Ascoltarino un'eritate Escolarino un'eritate Conte i giù se mostri di Ogni dì si fa così Tut lui viene da gran fulano Non sta pierditi mamà Non sta alla lontan lontan Non sta alla lontan lontan Sta alla lontan lontan E non sta alla lontan lontan Sta a fare piacchia Mamà Mandi Daria Hai non Sofia e hai i C-Signs Ti mandi un'e me fotografie con le mie pipine rosute Quando torni da scuola ho bev sempre il caffè con lei Mamà Mandi Sofia e mandi rosute di bande me e di mande di pine la mie pipine Eh sì Ti capis Perciè che anche io quando eri piccinina ho gioavi tutto il dopo mesdi con io le portavi a tor i cambiavi vestiti Poi dopo le mettevi tesscune Magari contavi una storia e poi e poi volete conoscere qualche ninenane per furlano Le ninenane sono le primi che si chiantano ai frutti per dare amore e sicurezza in tanto caduarmi e così a fase di eis le ninenane le ninenane si chiantano in tutto il mondo dunque si chiantano in tutti le lingue le ninenane le ninenane più conoscute è che dal sicuro questa ascoltatele bene le ninenane le ninenane di johannes brams che è stato un compositore che ha scritto musiche classiche io un cognos di par da bombie lì spartfurlan che ho chiantato sempre appine ninenane biel frutti sierei voi eduari in paz ninenane biel frutti che tomari pia in braccia pia in braccia susi suOS oppure ninenane ninenane ninenabe ninenote Che piele frutte Nine nane calvegn il bobo Se no tu duarmis alvencumo Nine nane calvegn il bibi Se no tu nanis alvencumo Frutte Shhh Sei indormitite Usano plasudis castis nine nane Ho podesto pralis culis vestris pipinis Cui vestris fradis surs Cusins e cosinis Volezo fami domandis su altris argomens covestante curiosità? Ho voleso fa un edediche Mandait a Maman Caiut sportelfurlan.eu Oppor mandait un whatsapp a 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 8 8 9 5 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 8 8 9 9 10 12 13 14 14 15 15 15 16 20 20 21 20 21 22 22 23 23 23 23 24 sono le sfilazioni. E voi? Hai voglia di contare sulle? Cattate così. Nanà, nanà, pupì. Ma vi ho detto che la nostra amica Nicole la fa con le gitarre, clamigli. Nicole! Nicole! Non ci sono anche nei miei, che mi cantavano di picciole. Nanà, nanà, pupì. Ma mi va a morire. il mare al base ha la pituta a cocoda la piteta ha fatto il coc sulla parte d'alpitoc il tuyut al tenglalù e il pupino al mur di si la piteta ha fatto il coc sulla parte d'alpitoc il tuyut al tenglalù il pupino al mur di si l'ho dita bravissime Nicole ho stare a sentire tutto al di ma vediamo come ho c'è che combina DJ Tubet Ascoltiamo tranquilli qui, con sacchi e buracchi, ascoltiamo anche questo storio è fantastico! Nananana Pupin, la mamma va al mulin, il padre al basse ha la pittuta coccoda. Nananana Pupin, la mamma va al mulin, il padre al basse ha la pittuta coccoda. Naaытina fate il Joe Val"? Nananana Pupin, la mamma va al mulin, il padre al basse ha la pittuta coccoda. Crocodà, nananana pupin, la mame va al mulin, il pari albassea, la pituta crocodà. C'è bravo DJ Tubet, e a tigia l'ho, ti esepta su della filaine, paruè sa che buracca è finita, si vediamo la prossima volta, un ebusade, mandi! Fru, come ho, al dà che ghiiti! Se so pronti per divertirsi con i fumetti e le storie di stele, volpe, coccale, ors, ghiiti, aquile e rughe, Con mame e papà, ho potes la sul sit bilengale www.giti.it Us pieta è un mondo fatto di cartons animati, videos, giochi interattivi e lettori! Sierade Sierade Via delore, egli arriva della Sierade! C'è ben, c'è gole di mangiare chiastini! Ho hai sentito a dir, che gli chiastini sono sierade dentro i tigri! Tu hai sentito ben uom, albastè vergio per gli uldisessi! Dunque, anche tu dentro se stu plendi chiastini? Tu! Giugato il preferito Il mio giugato il preferito alle rotte! Mi dispiace tanto, c'è giugato l'isola! Oggi è sempre con ors, alle oscurli! E c'è muzzi il rotte! Ors, il pensiero è che fosse un milugio e lo ha mangiato! Uff! Uff! Figli! Sai tu? Ho pensato che ho scrivuto una nonna nonna per te! Che tu mi fasi diventare matta di nonna, quando ti ripieni da perduta! In chiese! E potresti fare così, ascoltami bene! Allora... Ninenane chiarvi chiut Ma se bielle il gnocchia tut Ninenane chiarvi chiut Ma se bielle il gnocchia tut Diplasia! Ma rissante frus! Si è già indormidit! Mamma! Vigli! Chi ha le cap troppi sformi che puoi svelacchiarti? E puoi essere, per esempio, colorate Oppure riciclate E puoi essere gruese Oppure fine Si, vi è vero! E puoi essere una carta assorbente Come che si dopre Per la sua In chiesa E poi dopo Con la carta Si, si Volevi dire la stessa cosa Con la carta Tu puoi fare tante cose Come per esempio Quader Libri Di lei Con la mamma e il papà Tu puoi fare Parchiutti Si, bravo frus La carta si le dopre Pai coriandui Ho avuto O per fare Mascarutti Puoi fare di tutto Con la carta Mi è arrivata un'email Da i frus Che non stiali in vi chiese Vi ho detto in cui Che non scrive Mandi Daria A me mi plastano disegnare Perché O dopo i suoi disegni Ma c'è molto Sia fase La carta Mamma Caterina Mandi Caterina Viene la tua domanda Com'è ti spieghi C'è modo che I suoi disegni La carta 3.000 anni Prima che Nasse la carta Si dopreva il papir Che arriva di una planta E poi dopo La pergamone Che invece Arriva dei piedi animali Eh sì La storia delle carte Arriva di tanto Tanto Lontan E i suoi disegni Passi 1.000 anni In Cina E in che volta Viene fatta Col Bambù Si si Il bambù Quelca mangin anche i pandas Mandi Si ur panda Sestu ca Mi è venuta un'idea Fruz Anni incumodi fur Perché Alla è un nome Che Alla è proprio La mia perfetta Per contare C'è modo che si fa la carta Viene con me Fruz Il mio amico Alla è Il pol Mandi Il pol Il pol Il pol Quei Il pol Il pol È un carattol Il pol Il pol sbulì e poi dopo è ven fuori una pasta che è covente per far i suoi sdicchiarti. Questa pasta è venne tade, sblanchiade, distirade, suiade, pressade e poi dopo è fatta su in un rodul grande e di quel rodul si ta in i suoi sdicchiati per far i vostri scuader e i vostri libri. Amici il mio amico Paul mi ha domandato di provare a consegnare un gioco di fare in casa e provare a chiamare se attore e vedo troppo gli sdicchiarti come se attore di altri. C'è? C'è detto Max? Si, è vero, la schiatole dai giocchiati. Oh, e c'è dissi al tuo fradi? Bravo Leo, io faccio l'esdicchiarti, come ho domande a sommari. Eh Giulia, c'è vedi tutto tu per casa, il 4? Oh, il chi ha piaciuto per fare le fiesti di carnevale o di compleanno. Bravo! Bravo amici, potresti all'asiatore e vedo troppo gli sdicchiarti come è. Oh, vedi, questo è anche tu, cap? Ah, tu vedo troppi robbi sbieli che si possono fare con i carburi. Ma c'è robbi sbieli che si possono fare per loro. Ah, tu hai ragione. Fa ben la differenziale, dunque la chiarte con la chiarte e così io potrei tornare a trasformare le nuove chiarte. Grazie, Paul. Alla prossima, mamma. Volevo farmi domande su altri argomenti covestante curiosità? Ho volesso far una dedica. Mandate a mamma.caiutsportelfurlan.eu oppor mandate un whatsapp a tre siete un quattro siete due, nuv zero, doi, doi. O le harai tutto in trasmission. Facciamo un gioco. Vi ho dìns e occhiatà i sin cinze secondes il toc di chiarte blanque. Pronts? Vi ho dìns e occhiatà i sin cinze secondes. Pronts? Vi ho dìns e occhiatà i sin cinze secondes il toc di chiarte taronte in arancion. Pronts? Vi ho dìns e occhiatà i sin cinze secondes. Pronts? Il toc di chiarte rettangolare fucsie è dall'isale. a lecchè est tanti sconti sasson maglis culis fadis culis tris o cui orcui o cui gurius io li sconti ha o altri sfruz culis diambi si incrosadis li sorelis ben spicciadis pensierà della bocchiute per ascoltà un estoriute arbui proietti di valorizzazione delle lingue furlane indrecciati ai frutti e realizzati con loro fatti dai frutti dei squelis di aquilè flumiselle e la vile gli arbui asson come i frutti non dè un compagni di che l'altri qualche arbol ha le boccon qualche d'un altro ha le piccol petenat sbarlufit lark strent paront aspice di besol di besol in compagnia di 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 not con pochis ramacis con tantis ramacis culis fueis cience fueis culis fueis picciolis culis fueis grandis crot vistut acciampe adrete ducchi in rie sparniciats sierade vierte mescusine e liebette a a jenni sun liebette jie e ulcognosi dut e cirniovis da par dut par scoltale io so i pronte cui sa vece che non sconte mandi frut io so i bette a a mì nissu me pette io ho i cognosi dut o cirniovis da par dut mandi frut non c'è place vi odiusca con me ma sapete se c'è cosa hai pensato di far svolare con la fantasia ma c'è commenti al par svolare bra un avion allora come facciamo insieme un bel avion di carte se ti parla a tor se ti par puoi scrivere e mandare messaggi al papà e a vostre mame se so pronti tacchi ho potuto prendere un svei che ha già un disegno per no strassare ma secchiare se so pronti preate metate il svei par lung così poi chiapate il chiantone di mandrette dal svei e preate per fare un triangolo stesse robe col chianton di manciampe voltaite il svei così e tornaite a plealu a metà di par lung c'è via le spicce come occhio che arriva un e par difficile tornaite a pleare a metà il svei così dos voltis eh amiche une stesse robe anche di che altre bande fracate fracate benone su tutti gli spleadori così il nostro avion sta ben fermo slarghe il suo salis e via se so pronti per far volare il vostro avion si mandi di bette a amini su me bette fru se so pronti per divertirsi con i fumetti e le storie di stelle volpe coccale ors ghi aquile e ruie con mamma e papà o podes la sul sir di l'engal vu 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 pont giti pont it us piette un mondo fatto di cartons animaz videos gioux sinteratifs e letturis un biel mangià bia delore egli è la stadion di coce e dai gnocchi di patati coce e gnocchi c'è molto fase sto a mangiaio non sono paio mangs o mangi duttio biel plank si riva a fa duttio che si vuol anche arriva a fa calare ors tu mi domandi sempre l'impossibile pesca uè o hai deciduto di là a pesca c'è ben salmons mi plazzo in pardabon tant tu puoi disvigni con me prepario gli sleschis c'è buoni gli sleschis a coventi in par pesca non si mangi buf c'è bel regalo che si ha fatto l'ol inventando la chiarte vero ma sì ma un gran grazie sovind di di l'u ai nostri amici arbue grazie a due chi arbue dal mondo per venire regalare la chiarte sì cu la chiarte o po' d'infà come covindite libri squaders di po' de lei ma anche di po' de scrivi per sore fruz se so curiosa anche o altri scommi vigi di capire e imparare se mot che viene su della scrittura sì ma queste o se conti un'altra volta mamma mandi bete c'è mu c'è mu c'è mu io beno sì ho soi a chiasi convigli mandi fruz o so i coprovi a fevelà c'è come se non avess altri manieri per farlo ogni tan mi domani dicem che sarebbe la vita se non avessi inventato la scrittura per comunicar per mandarsi messaggi email o lettere vonde vonde vindi ti prei mi ormo là con questi sprovi come voi dentro e voi a scrivere un email a bete così mi lei e mi rispondo dì un email dai frusche nos chiali in di chiese vi ho dì mandi d'aria ho so in prima elementare e mi piace tanto imparare a scrivere ma c'è molti senza su della scrittura mamma Luca mandi Luca e mandi a tutti altri frutti con questa chiese essi ho veste sapere che tant 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 timp in d'or i prinsons ha comunicavano con grandi sposate così iuuu oppure ha impiavano fucs per mandare messaggi col fum una volta gli srobis avevano incontati da me a vos al man chiave alc per fissare in te memoria dut c'è che si contava alc che resta a lung in tal timp in che volte non esistevano imprese come che dico mo per mandare messaggi email o per scrivere letter pensai c'è memoria che bisogna aveva per visarsi tutti dunque i oms che hanno vivuto 3.000 1.000 da u hanno inventato una prima forma di scrittura ma sapete c'è molto che facevano beh adoperavano gruess suoi di argile fresche e foffe e per ore facevano disegno con alc con la ponte ma c'è che scrivevano non erano letter no a ci riven di rappresentare tutto c'è che ho coventato poi dopo mettevano tutto su so dal sore pensai c'è fattore a portato or libri di argile io c'è pesanza a un certo punto i oms si sono rindus con che tutto che facevano non bastava per rappresentare tutto che ur coventava e così ha inventato simboli per rappresentare sons di per aulis che plank a plank si sono trasformati in letteris letteris che dopo mi ars di ails si sono dopradis per descrivere la lista di spese oppure le email che mi mandai con gli utori di papà e mamma o per scrivere libri con lei la sera prima di la dormire c'è biele e importante invenzione che è la scrittura nomo frunz volesso fami domandis su altris argoments covestante curiosità ho volesso fa un dedica mandait a mamma caiut sportelfurlan.eu oppure mandait un whatsapp a tre siete un quattri siete doi nuf zero doi doi vole arraid ut in trasmission facin un gioc se so boins di contà tros cuninus ca son ta questa immagin in cin sec cons pront vie cuninus cuninus a son un doi tre quattri occhio comò a contà lis rassutis pronts via lis rassutis a son une dos e tre e i chianus tra sono i chianus pronts via i chianus a son un doi e tre bravo nons tantis contis a son magis culis fadis culis tris o cui orcui o cui gurius io li sconti a altri fruz culis diambi sin crozadis lis sorelis ben spicciadis ben sierade labo chiute per ascoltà un estor iute alfabet cencenicchiav nicchiavec conte giavade di il tesaur de letterature paifruz edizione art graficis furlanis eclape culturali aquilè a aliere un agno tutte luce e tutti splendor inunzia al popol sielt la vignode dal signor b b aliere un bo che ogni tanto al mungulave par dismovi lavachiute che dormive e rumiave c aliere un camale che non beve nanchi un vizi contentone il soparone di un nemà alcun tan mi dizi c aliere un chian che al beve non bastian e che mangiave anche pan pur disuar bala fan di aliere un dolfin mai strac di nadà che nanchi vie pegnote non si fermave a polsà e aliere un elefant con un nas proposetà le sorelle smancul mal par salvà la dignità e fe aliere un fade tutte plene di lancur che ci rive a tutte gnot che insurride di sussur ghi aliere un gotte di un spinella pendolone che trimave di porone di fabasso un tombolone ghi aliere un ghial sempre in spieta di chiantà un volte che alveodeve di lontani di acricà a anche aliere un pu aracca disperate squintiate perché un triste scuola non lo veve ben trattato i aliere un incone insomma di un androne la che olevia prea di fruttin con l'anone il lung aliere un euro col music tra il ros e il gris li sorelli bielis dretti e il tanart un chiam di ris ele aliere un elusine che leve attord ignotti e non saveve biade di vellus orrot eme aliere un mierli neri neri tanke il chialin giall il bec pluide polente biel che nanchi un pipin ene aliere un anul che alviveve in tombosk biel il nas bond la bocchie l'home un voli alve l'osk o aliere l'ombrene che il pari di nene si parava il cerneli salpetava il soreli pi aliere un eplere di plastiche nere di scugnido pra dome partravasà ere aliere un ric biel taront e dut spinos nanchi il chiam non l'un asave par nometti il nas in croos esse aliere un sclopon dut un screen di bomodoro un grande maravè di bielecce e di colore di aliere un tren che altirave un sol vagone e che alleve ogni domenie di gorizia mon un alieere un uve che nessun voleva mangià perché tutti dicevano che ieri buona di folà vi alieere un vuoi vonde buon e vonde gruess che nessun chiapava su sol per non sgobarsi io zete agli eroneggiare plene simpri di bom vin la che i plaseve a tetà che il brut mostro di tunin bat li smassa ciampe faso un saltadrette bale chiante con vosutis te sacchette vosutis te sacchette vosutis te sacchette vosutis pai raro a bali in si li suoi di autunna bali in si in piccio i cercli sa bali in si cui i miei piduz a cori simpri cala naranzon vertis e zadis e viot la a son resistantis a svolin si a svolin col vid che soffle sempre fresco settembre ottubre november a sorr si a sorr con no anche tal mestri zardi i fons a crescita e la da urd All'arburù, che il calè pluiat, ovviò tu un'ombre misteriose, la ombre dal più bravo vittor calè, Bruno il sononale. I'm calling you, cruesis justinis, a crescenza, coches grandonis, et ai zeis, li smentindutis, per fa' un'e fiesta insiemi. Settembre, ottobre, novembre, assorriba a schicur no, anchietta al mestri zardi, i fonsa cresci in caela. All'arburù, che il calè pluiat, ovviò tu un'ombre misteriose, la ombre dal più bravo vittor calè, Bruno il sononale. Bruno il sononale. All'arburù, che il calè pluiat, ovviò tu un'ombre misteriose, la ombre dal più bravo vittor calè. Fruis, cumò, altacca e ghiti. Se sopra unspar divertissi cu i fumets e li storis di stele, bolp, coccal, ors, ghiti, aquile e rughe. Cun mame e papà, o podes la sul sirbilengal www.giti.it. Uspiete un mond fatt di cartons animals, videos, zugs interattivs e letturis. Budi. Ho fatto un budin, bom, bom. Guarda, bom, puoi cercare l'u? Iii, non so, è sicur che ti plasi. Porcè, non vuoi lì sto condividi? Ho potreste anche il falo, ma non crocca ti plasè di in lisglans. A scuole Ai fin, ho sei lato a scuole e mi sei anche divertida. Par da bom, talvevi di stele imparà alle divertente. Giuste, ho vinto fatto matematiche, furlà, taglià. Allora divertinsi e studin anche mo. E no, o ma vuole ande. Vì, vedi. Vì, vedi. Vì, vedi. 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 giornate dal mese di novembre al mar. Vedi. 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 intendente da wo ma che credenni. Vedi? Vedi. 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 un tapone di plastica, ma no, non puoi scruire, se stai spargando altri frutti, ma rubi di che l'altro monto, oh no, una bottiglia di detersivo, no, chiara mi mar, e chiara mi spes, mi displace, non si merita su una roba dal viener, un siudio, si, utiliute di plastica e di aghe, via, contenitor di detersivo, via, frost di plastica, via, tapone di plastica, via, doc, dentro di un sac neri, Mandi, Daria, oh sì, Matilde e Lorenzo, sì, sì, con i suoi scopi che tu sei venuta a giocare con noi alle stizie, c'è gusto che hai giocare insieme, a casa ho fatto sempre la raccolta differenziata che non hanno insegnato il papà e la mamma, mamma, mandi, Matilde, mandi, Lorenzo, sicuro che mi visiti altri, se sei impegnato su un nevore a fare i vostri disegni, io spero di tornare a vivere in cura, grazie per la buona, e bravo non si può fare la raccolta differenziata, ma se fossi tutti come altri, wow! bene, sapessi di sapere cosa è succeduto prima, ho solo un nevore a vivere, o eri donna dal mare e ho accettato un gru di rifugio, lasciato dai uomini, robe, una robe impossibile per da buono, che l'ho con la sua intelligenza al sé di buono di fare tutte queste cose bene, prima di tutto, in conto c'è che c'è la plastica, Fruzzi la plastica è lisera, isolante, versatile, resistente, con io potessi fare di tutto la plastica è uno dei materiali più depratti al mare e monti e è fatto in modo che si arrivi a lavorare per dare la forma che si usa la plastica può essere naturale, venga stai che è presente in natura tanto che il cauccio, la cellulose o la bioplastica, tirade fur di alghi e blave Sintetiche, fatte col petroli Ah, esistono plastiche che si arriva a modellare più volte e dunque sono riciclabili Altri invece si arriva a tornare a modellare addome una volta, dunque non sono riciclabili E va bene non di doppiare la plastica, ma ho bisogno di fare tanta attenzione perché se per esempio le buttate all'ambiente e non viene riciclata, la plastica non si degrada per ignorare e lo dice anche il WWF I scienzias ha sonda ora inventato una plastica che si è in stadi biodegradati col calore dal sorelli o dentro i teaghi Ma in tal frattem, frutti, compravi Una buracchia, invece che tanti sbutigli di plastica Oppure Dovrai un'etace di veri, invece che mil di plastica E Fonde, frutti, non sei se buoni di bevi con la tace Dunque, frutti, ascoltatemi bene Ha disin che cadi cinquantainz e sarà più i plastiche che i pes I pes a mangin la plastiche No, ho mangin i pes e dunque al sarà come mangiassi la plastiche Ho vinto questa attenzione, non ho vinto di trasformare il mare in tune di schiarie Se il fosse così, c'è displace Volevo farmi domande su altri argomenti covesse tante curiosità Ho volesso fare una dedica Mandate a Maman Cajut sportelfurlan.eu Oppure mandate un whatsapp a 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 8 9 9 10 11 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 15 16 16 17 18 18 19 20 22 23 23 23 24 24 20 17 15 25 25 27 27 28 28 29 29 28 29 ma la mia passione più grande sono i filaini, che sono dai conti in rime e che di voi attacchano così. Una è la luna. Ma vediamo la mia amica Nicole, c'è molto che fa queste filaini con la sua gitarra. Chiamiamle insieme. Nicole! Nicole! Mandi, Fruz, come vi faccio sentire una fila che fa belle di Numars? Perché la tua vita si scugna e sapeva contare e come vi insegnate molto. Una è la luna, due, la croce, tre, tu sei per me. Il tre sta con me, il quattro è il babbati, il cinchidinchi, il sisli su ris. Il Siet, il Liet, il Vot, il Crot, il Nuf e Scus da Luf, il Dis, il Paradis. Una è la luna, due, la croce, tre, tu sei per me. Il tre sta con me, il quattro è il babbati, il cinchidinchi, il sisli su ris. Il Siet, il Liet, il Vot, il Crot, il Nuf e Scus da Luf, il Dis, il Paradis. Mandi, Fruz! Dij, Fruz! C'è Maravè Nicole, e come ho sabina anche contà. E come ho mi piace proprio te sapere la calella DJ To Bet, che mi ha contato che con la flora o con le sorelle va a fare il bagno del flum, ma io non ho il Crot. E quattro? Dij, Fruz! Dij, Fruz! Dij, Fruz! Dij, Fruz! Ho sei venuto qua a fare un bagno dal cilimenti, ma ho sei bezzol, sarà un amico perché c'è che il Bluf. Valendo! Una luna, due, la croce, tre, tu sei per me. Il tre sta con me, il tre sta con me. Il quattro? Dij, Fruz! 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 Dij ... è con me. Quattro, cinque, sis. Arriveranno i miei amici. Siete, vott, nuv. Sale biel, sei al pluff. Din, don, dan. Usa al di sfruts parfurlan. O gioarin in che smes. Culi slenghis e culi inglesi. Mandi, frus. Uè, o so i cacui miei amici. Max e Leo. Mandi, Max. Mandi, Leo. Mandi, Daria. Uè, o hai dimetti a queste case e o hai dimetti a donde c'è che non ho scovente per riciclarlo. Riciclare? Alla è molto ordinaria per andare in questo planeto. Tu hai ragione. Beh, allora impari a riciclare. Yes, let's recycle. Chialai frusca o vinc. Tre bidons. Un, due, tre. Bidon, par inglese, si dice bin. Allora, frusca o vinc. Un giornal. E il giornal al va dentro dal bidon rosso. Che è il becchiarte. Newspaper and paper go in the red bin. Poi dopo ho vinc. Una lattina. La lattina va dentro dal bidon blu. Che è il dall'aluminio. Can't an aluminum go in the blue bin. E per finì ho vinc. Una bottiglia. La bottiglia è fatta di veri e le buttim dentro dal bidon verde. Puddles and glass go in the green bin. Frusca, facciamo un gioco. C'è roba i sei. Che è ste? It's a newspaper. Put the newspaper in the red bin. Alla è un giornal. What's this? It's a can. Put the can in the blue bin. Good job. E io, una lattina. Brav. What's this? It's a bottle. Put the bottle in the green bin. E io, una bottiglia. E io, vera. All finished. Come ho? Ho vinc metto tutto questo. Ho vinc riciclato. E ho vinc salvato, amici, il nostro planet. Frusca, come ho? Il taccheguiti. Se so pronti per divertirsi con i fumetti e le storie di stele, bolpi, coccali, ors, giti, aquile e rughe. Con mamma e papà, ho potes la sul sit bilengale www.giti.it. Uspiete un mondo fatto di cartons animati, videos, giux interattivs e letturis. www.giti.it.it www.giti.it.it Pittura Pittura Giti, ha la tacata pittura. Anche io, ma non jela ademasse ben. Parvie? I colori che ho dopri, ha son faț di mil. Io ho astum mangiato due? Sì. 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 Sì.